dal prossimo 17 ottobre partono le domeniche in seminario un appuntamento voluto dal vescovo di vallo della lucania sua eccellenza monsignor ciro miniero per aiutare i giovani a scoprire la bellezza del discernimento vocazionale una sorta di open day come quelli che si svolgono annualmente nelle scuole per far conoscere le opportunità e i cammini esperienziali che si possono vivere se si avverte una irrequietezza nel cuore che potrebbe corrispondere a una chiamata ai ministeri ordinati l'iniziativa che si rinnoverà ogni domenica e che si svolgerà proprio presso il seminario diocesano di vallo della lucania è curata da don mimmo de vita e da don giuseppe de marco i quali insieme ad alcuni giovani seminaristi condivideranno le esperienze di vita e di servizio che il cammino vocazionale è in grado di stimolare possono prendere partere alle domeniche in seminario gli adolescenti della diocesi che frequentano la scuola superiore e che si sentono interrogati sul loro futuro per informazioni è possibile rivolgersi ai propri parroci agli insegnanti di religione della propria classe o direttamente a don mimmo e don ronel ai numeri indicati nella locandina grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti